musica amici miei Decov G Marco DRA GAMES CHANNEL bella 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 lì ragazzi un gioco bellissimo incredibile bisogna fare cose fantastiche e avere un platino difficilissimo amici se volete platinare e menarvela coi vostri amici prendete Decov G la mucchina che fa latte tonnellate tonnellate di latte allora andiamo avanti uh grazie il tutorial assolutamente serve un tutorial primo trofeo non so ragazzi se li vedete voi che le guadagno ma vi dico a voce ogni trophy che prendo raga è incredibile difficilissimo oh all cove are female trofeo è una cosa incredibile elder ring fa ridere in confronto gran turismo 7 è un gioco da ragazzi eccolo qua 800 cattle birds che è pure in inglese bello lì raga a 1500 che quasi quasi arriviamo arriva l'altro cove head grass 2 cove can seal almost 360 degrés il mio inglese ragazzi fa paura ma proprio nel senso che fa paura davvero ma io sono italian boys di tanti anni fa e cove can detect others hop to six maize away andiamo avanti adesso c'è la parte difficile la parte difficilissima difficilissimo quando si comincia ad arrivare verso i 3000 cove very social è un sacco di roba che non c'è voglia di leggere e poi siamo veramente vicini al treguardo cove upper front siamo già ai trofei argento raga e a 4000 argento hai fatto 32 tit che alzano cosa l'è ma sembra tit ok 4500 oh la la a cove will chev for hop 5000 vediamo ancora argento ragazzi 10 ore del giorno late in dawn robe stranissime vedo a monitor oh ha ha è il primo oro raga ce lo meritiamo un oro perché è davvero difficile questo gioco io vi consiglio di comprarlo se volete un yuko can't sleep un platino easy 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 un platino in più da mostrare ai vostri grandi amici e a dire ragazzi io ho 500 platini e voi no allora the first cove arrivato in USA e anche storia ragazzi average body stiamo correndo stiamo platinando incredibile ragazzi stiamo arrivando a 5000 ozzi uh 7500 ozzi 4 digestive compartimenti e la mucca 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 oh i video su questo gioco ragazzi saranno tutti così quindi se vi piace volete ridere un po' seguiteli se no evitate ve lo dico io che li faccio oh stiamo quasi quasi arrivando al platino amici miei stiamo quasi arrivando al platino è una cosa incredibile ci abbiamo messo un bordello di tempo farming cose incredibili e vi dico la verità sono felice di farvi vedere questo grandissimo platino allora poi si fa menu oh my god menu si esce dal gioco e si cancella almeno che volete far giocare i vostri nipotini i vostri figli con un gioco carino con una mucchina ferma che fa soltanto tanto buon latte e tanti bei platini ci vediamo mi raccomando amici miei seguitemi nelle live su twitch tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle otto e mezza alle undici e al sabato grande giornata di live alle tre del pomeriggio di sabato e domenica fino alle cinque sei variabile 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 e dalle otto e mezza al sabato illimitato fin quando il sonno mi porta via e alla domenica dalle otto e mezza alle undici mi aspetto in live su twitch marcodrams games vi aspetto iscrivetevi venite a trovarmi amici miei e mi raccomando su youtube su youtube posto tutti questi video fighissimi anche di gioco che non porto in live seguiteli c'è la playlist con tutto quello che volete dai trofei dai tutorial dalle guide ai giochi alle live che faccio dappertutto e poi le riposto qui gran turismo tutti i giochi nuovi Tokyo Ghostwire Tokyo Tales of Arise Cyberpunk la versione nuova GTA 5 la versione playstation 5 tutto playstation 5 e xbox serie 6 ok amici miei tutti i giochi che andate a vedere Horizon Zero Dawn Horizon Forbidden West dopo stasera che è sabato è sabato esattamente 26 di marzo porto anche il nuovo Tina Tina's Borderland dai raga un sacco di fighissimi giochi nuovi su marcodrams games per divertirci insieme e mi raccomando anche di seguirmi sui social facebook twitter instagram tiktok twitch discord per sapere sempre quando porto le mie cose online anche informazioni sui videogiochi sulla musica e tant'altro ok grazie ragazzi al prossimo platino col prossimo gioco che faranno con la H che non so proprio che cosa sarà oppure salteranno magari faranno qualche gioco con la I però non ditemi in inglese gli animali come si chiamano ipopotamo il prossimo sarà sull'ipopotamo dai un bel sondaggio scrivete nei commenti quale sarà il prossimo platino veloce e il prossimo gioco così con il prossimo la prossima lettera G H I quindi o H o I scrivete gli animali con la H e con la I ciao amici miei alla prossima ciao da Marco D'Arrosi insieme mitici al prossimo video fichissimo e divertente insieme ciao